Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 2 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Formula perfetta, due cuori e una capanna. Racchiusa nell'abbraccio di Venere, anch'essa in capricorno, la coppia Mercurio-Marte che qui risiede intrigono al vostro segno, apre febbraio parlandovi di sentimenti. Amore, dunque, con la A maiuscola, non quella tenera amicizia angelicata che qualcuno vi addebita, tratto in inganno dalla vostra timidezza, ma una relazione passionale, dove lo ruolo dominante lo gioca la chimica. Desiderio, slancio, intesa profonda, avete a disposizione tutti gli ingredienti per costruire una convivenza inossidabile. Dove, ha un'importanza relativa, vista la situazione finanziaria e la magrezza del vostro gruzzoletto, la formula due cuori e una capanna vi si attaglia a pennello, siete corazzati contro i guai e avete la fortuna di sentirvi felici semplicemente stando vicini. La coppia sta per terminare un periodo e iniziarne un altro, sarà positivo se i partner sapranno intendersi ed avranno massima disponibilità a collaborare con l'altro. Negli altri casi il rapporto potrebbe essere giunto a capolinea e uno dei partner sarà preso dalla diepsorazione e dal dolore. Notevoli cambiamenti nella coppia. I single saranno illusi da persone che potrebbero lasciare il segno nella loro vita. Se le incompressioni con il vostro partner, o la persona che vi interessa, superano l'amore che provate per loro, non sarebbe meglio prendere in considerazione l'ipotesi di allontanarsi? Giove sta per scrivere pagine nuove nella vostra vita, solo la luna potrebbe continuare a frenare tutto infondendovi nervosismo e pessimismo. Armatevi di pazienza e cercate di affrontare le questioni spinose con prudenza. La situazione si risolverà. Mattinata e primo pomeriggio senza particolare enfasi, buone prospettive per la serata in vista di un successo che sarà possibile cogliere grazie a Giove e Saturno che sono ben disposti per voi a partire dal primo tramonto. Serenità. Armonia in famiglia. Favorevoli le gite, l'introspezione. Tieni sotto controllo la salute. Tutte le esagerazioni nel bere e fumare, via. I malintesi potrebbero oggi giocarvi un brutto tiro, quindi sarà saggio e importante parlare solo se richiesto ed evitare di esprimere le proprie opinioni sostenendole ad oltranza. Una persona a voi cara vi sta pensando, potrebbe anche farsi viva dopo tanto tempo. Per voi sarebbe un'autentica sorpresa e potreste pensare anche a cambiare qualcosa nella vostra vita per farle posto. Bisogna che piantate entrambi i piedi a terra e difendaite le vostre posizioni fino all'ultimo, c'è qualcuno che vorrebbe farvi cambiare idea su certe cose. Non lasciatevi condizionare. Il team Mercurio, Venere, Marte specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 30 agosto al 9 del mese di settembre, continuo a spalleggiarvi con ottimismo, voglia di vivere, capacità di minimizzare i problemi, nel riuscire a trovare soluzioni semplici ed efficaci a tutte le incombenze quotidiane. Urano e Giove in angolo benefico dal segno fidato alleato del toro vi aiutano invece a tenere sempre il timone nel resistere a ogni contrarietà. Il quadro di questa prima giornata del mese di febbraio è, in linea di massima, discreto per voi, con una maggioranza di forze planetarie schierate al vostro fianco. La mente e la mano, il pensiero e l'azione dal segno amico del Capricorno lavorano in team per favorirvi con un trigono corroborante. Alla grande gli affetti, partner taciturno ma comprensivo, figli fin vivaci, che in compenso vi costano un botto, parola della luna in seconda casa. Ed è proprio a causa del suo amore per l'eleganza e l'apparenza, tipico del segno della bilancia dove transita, che oggi non vi accontenterete, per avere il meglio spenderete come Nababbi. Amore ed Eros La storia che al momento vi intriga è coinvolgente ma instabile, se non siete certi di quel che provate, giocando con i sentimenti, meglio cambiare atteggiamento, eviterete delusioni per tutti. Saggio, prima di abbandonarsi alla corrente del desiderio, fare chiarezza in voi stessi cercando di capire quanto siete disposti a ricevere e quanto a dare. I cambiamenti che adesso le vostre vicende di coppia vi stanno chiedendo, sono una prova che riuscirete a superare abbastanza brillantemente il momento attuale, usando intelligenza, pazienza, costanza, unite tutte a una solida forza di volontà. I nati della prima e seconda decade fronteggiano ancora la negatività di Saturno che continua a navigare nelle acque dei pesci e sono quindi obbligati ad adattarsi alle esigenze del partner. Lavoro e denaro Vincente chi pratica o si occupa di sport, politica, organizzazione aziendale, tutti ruoli che implicano corpo e mente ben collegati, versatili e in grado di sostenere cambiamenti veloci senza fare una piega. Tuttavia non siete persone d'azione, decisione estemporanea e ritmi pressanti, dopo l'iniziale entusiasmo finiscono per stressarvi, la vita è una mela da sbocconcellare con eleganza, morsi troppo grossi non fanno bonton. Magnifici aspetti planetari vi consentono oggi di procedere spediti verso orizzonti particolarmente promettenti per la vostra carriera, in modo più incisivo se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e nella terza decade. Specialmente se avete scelto di abbracciare la libera professione. Benessere Linea e forma fisica salvaguardate da una cucina intelligente, insaporita con spezie ed erbe aromatiche, una masticazione lunga e accurata che fa digerire e assimilare meglio, evitandovi fastidiosi malesseri. Poco ma buono, ecco la regola, per godervi la vita e tutti i suoi doni senza esagerare. Denaro. La vostra tipica parsimonia vi giunge adesso in soccorso in una situazione complicata dove siete obbligati ad attingere alle vostre riserve di risparmi. Per lei, stasera si balla e a ritmo scatenato. Non in discoteca, però, ma romanticamente a casa vostra e se il vicino di sotto si lamenta, affari suoi. Non importa se non conoscete i passi, l'essenziale è star bene insieme e mantenervi sani e belli. Per lui, lo sport resta il vostro toccasana, non fate mai passare 24 ore senza almeno una pedalata o una passeggiata, se ai piaceri della tavola non sapete rinunciare è fondamentale è bruciare gli eccessi. Certo che con la fame nel mondo, voi saresti da bacchettare, basterebbe ridurre le porzioni. Colore delle emozioni, rosso pomodoro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.